Musica Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del TG6. L'Abruzzo, secondo il capo della protezione civile Fabrizio Curcio, è tra le sei regioni d'Italia senza mezzi aerei per combattere gli incendi. Il forum dell'acqua invita la regione Abruzzo a rimodulare il masterplan a partire da opere troppo costose come la Fondo Valle Sangro per trovare i fondi necessari per acquistare i mezzi anti incendio. Sentiamo il servizio. Qualcuno con la mente è tornato indietro a qualche mese fa alla tragedia di Rigopiano, spostando l'attenzione sugli incendi, questa volta non sulle valanghe. L'Abruzzo, almeno stando anche le parole del capo della protezione civile Curcio, sarebbe tra le regioni non dotata di un elicottero e di tutto quello che serve per il piano anti incendi. Sì, la regione Abruzzo, secondo quello che ha detto Curcio, è priva di mezzi aerei per lo spegnimento in emergenza degli incendi più gravi. Io voglio ricordare che nel 2007 questa regione è stata devastata da incendi veramente pazzeschi che hanno distrutto decine e decine di migliaia di ettari di bosco. Ovviamente ci sono problemi di tutela della pubblica incolumità e presentarsi all'appuntamento estivo, peraltro con una stagione molto secca, senza i mezzi adeguati, ci fa ricordare brutte storie che purtroppo questa regione ha vissuto recentemente. Essere impreparati non è più possibile perché i rischi ambientali li conosciamo e quindi bisogna approntare tutti i mezzi per poter fronteggiare questa emergenza perché poi in Portogallo è accaduto una vera e propria tragedia. Chiaramente un elicottero non si compra dalla sera alla mattina e ci vogliono fondi per poter acquistarlo. Dove reperirli? Magari cambiando il masterplan e prendendoli da opere forse sovradimensionate? Sì, il masterplan contiene opere faraoniche da costi spropositati. Ci sono anche delle opere che si dovrebbero anche fare, parliamo della Fondo Valle Sangro, però se i costi standard europei sono 6 milioni di euro a chilometro e la Fondo Valle Sangro ne viene a costare 36 milioni di euro a chilometro, neanche fosse un'autostrada, beh lì vuol dire che c'è un errore. L'errore è stato spostare il tracciato da una zona a basso rischio frana a una zona a massimo rischio idrogeologico. Questo fa capire anche la follia delle procedure. Beh, questo ha fatto esplodere i costi che sono, a mio avviso, insopportabili e va cambiato il masterplan dando poche risorse dove serve ovviamente, però spostandole sulle vere priorità che sono il risanamento del territorio, la bonifica, la prevenzione dei disastri ambientali, anche la messa in sicurezza di scuole ed ospedali. Queste sono le vere priorità di questa regione, il masterplan purtroppo va nella direzione opposta. Ed ora una notizia di cronaca sale sull'auto di un cliente di 73 anni con cui aveva contrattato una prestazione sessuale, ma poco prima di salire intima l'uomo di fermarsi e sotto la minaccia di una siringa si fa consegnare il portafogli con 180 euro. Protagonista una 19enne pescarese già indagata per furto e truffa e sottoposta agli arresti domiciliari con l'accusa di rapina aggravata. La misura cautelare eseguita dal personale della sezione antirapina della squadra mobile della Questura di Pescara è stata emessa dal GIP del Tribunale Adriatico Gianluca Sarandrea su richiesta del Pubblico Ministero della Procura di Pescara Barbara del Bono. La giovane è stata identificata come responsabile della rapina compiuta in Viale Tiburtina lo scorso 29 maggio grazie all'esame delle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza e alla testimonianza della vittima che ha fornito descrizioni accurate. Adesso andiamo a Montesilvano dopo un lungo tira e molla. I 20 africani ex inquilini delle palazzine di via Ariosto hanno dato parere favorevole alla sistemazione alternativa proposta dal sindaco Maragno. Ieri sera sono stati accompagnati nelle strutture Caritas di Pescara. Sentiamo Andrea Costantini. Da ieri sera hanno deciso di farsi ospitare a Pescara in strutture gestite dalla Caritas. Sembra dunque rientrare l'emergenza degli sfollati del ghetto di via Ariosto a Montesilvano che dopo un tira e molla durato diversi giorni hanno avallato la nuova sistemazione. Non sono mancati momenti di tensione in questo periodo da quando, lo scorso 31 maggio, a seguito di una vasta operazione interforze sono state sgomberate le palazzine di via Ariosto occupate da africani, per lo più senegalesi. Se un centinaio di loro avevano provveduto a trovare un'autonoma sistemazione, per gli altri, una ventina, la situazione era diventata complessa poiché si erano da subito opposti alle sistemazioni alternative proposte dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Maragno. Solo un paio di anziani aveva detto sì alle strutture della Caritas. Il drappello dei residenti si era invece accampato nel tratto di spiaggia libero a ridosso del curvone della riviera, tra i grandi alberghi e lo stabilimento Tamanaco, dormendo all'interno delle tende lì sistemate e stazionando stabilmente a ridosso della pista ciclabile, sempre sul lungomare. Uno stato delle cose che aveva generato tensione tra cittadini e balneatori che nella zona hanno le attività. Tanto che le forze dell'ordine hanno comunque mantenuto dei presidi fino a intervenire con una nuova operazione interforze che aveva permesso di censire 17 africani, 10 dei quali irregolari. Proprio mentre il sindaco Maragno si accingeva a utilizzare il daspo di sicurezza urbana del decreto Minniti, la diplomazia ha avuto la meglio e nel tardo pomeriggio di ieri gli ex inquilini di Via Ariosto hanno di nuovo incontrato il primo cittadino, hanno dato parere favorevole alla nuova sistemazione e sono stati accompagnati in pullman nelle strutture Caritas di Pescara. Adesso andiamo davanti all'ospedale di Pescara dove questa mattina c'è stato un sit-in di protesta di sindacati e lavoratori delle società e dei servizi, in particolare in questo caso di quelle che lavorano all'interno dell'ospedale di Pescara. Vediamo insieme il servizio. Sono più di 49 mesi che non si riescono a rinnovare i contratti nazionali del settore del pulimento e della ristorazione collettiva in particolare. Perché sta avvenendo questo? Non perché abbiamo chiesto aumenti salariali spropositati. Ci siamo mantenuti proprio nello stretto necessario. Ciò che le aziende non vogliono sottoscrivere è riconfermare i diritti dei lavoratori, la tutela dei lavoratori. Con la scusa di dover risparmiare cercano di abbassare queste tutele. Il settore pubblico paga contratti salati, compreso il costo del personale, alle imprese. Le imprese risparmiano sulla pelle dei lavoratori e sulla pelle dei cittadini. Questa è la verità e per questa ragione noi protestiamo. Qual è il clima che si vive all'interno delle aziende? I lavoratori sono stanchi e stressati perché, come diceva il collega, loro sono sottoposti a cambi di appalto frequenti. Abbiamo appalti grandi come questo, la ASL, che è comunque una scadenza triennale. Per cui il lavoratore ogni 2, 3, 4 anni è costretto a rivedere la propria condizione lavorativa. La clausola di salvaguardia rende l'occupazione garantita, ma neanche la qualità dell'occupazione. Quindi noi spessissimo ci troviamo a dover difendere anche il salario. Sono oltre un milione e mezzo in Italia che attendono questo rinnovo contrattuale che noi riteniamo debba assolutamente in questo momento essere confermato. Dei fatti vengono definiti lavoratori invisibili perché comunque lavorano nei momenti in cui nessuno li vede e garantisce sia esso per quanto riguarda l'igiene degli ambienti dove altri lavoratori poi durante la giornata svolgono le proprie attività e sia per quanto riguarda le attività che siano essi ospedaliere o scolastiche o di imprese pubbliche o private che comunque servono a garantire quel minimo di mantenimento di diritto sia per se stessi che per altri lavoratori. Dobbiamo tener conto che sono tutti lavoratori part time che lavorano 2, 3, 4 ore al giorno e molto spesso le imprese cercano e tentano di fare più riprese lavorative, da 1, 2 a 3 riprese lavorative. Chiudere i tunnel della morte fino a quando non verranno messi in sicurezza Leandro Bracco, consigliere regionale di Sinistra Italiana, sposa l'appello di Paolo Donofrio referente regionale dell'AIFVS, Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada dopo l'ennesima tragedia accaduta nella Galleria Le Piane sulla variante alla Statale 16 a Francavilla al Mare e come sottolineato da Donofrio stesso nelle due gallerie che si susseguono Le Piane e San Silvestro afferma Bracco in dieci anni ha perso la vita una ventina di persone non si tratta di semplici incidenti ma di sinistri seguiti a sbandamenti e uscite di strada che si sarebbero potuti evitare se la strada e le gallerie stesse fossero state progettate secondo le direttive europee, cioè con corsie ampie e non a doppio senso di marcia. L'Associazione Pescara Mi Piace torna a puntare l'attenzione sulla balneabilità del mare di Pescara e per farlo porta l'attenzione dei dati su analisi effettuate dall'ACA, questa volta e non dall'ARTA che rivelano problematiche nella zona della Madonnina, nei pressi del porto canale. Andiamo a vedere insieme il servizio. Ci sono delle analisi condotte questa volta dall'ACA, non dall'ARTA a fine maggio che mostrano dati preoccupanti, voi dite per quanto riguarda l'acqua, qual è la situazione? La situazione è come sempre torbida, non soltanto rispetto all'acqua ma rispetto ai dati, alla pubblicità che le amministrazioni danno dei dati reali o meno e al fatto che non ci sia affatto chiarezza in merito alla salute del nostro mare, cosa che ci interessa più di ogni altra cosa. La verità è fondamentale perché la verità stabilisce un rapporto di fiducia tra cittadini, quindi utenti del mare ma anche operatori commerciali. Noi sappiamo che il 25 maggio ci sono stati diversamente importanti per l'apertura delle famose pompe di sollevamento. L'ACA questa volta e non l'ARTA, non sappiamo perché, ha effettuato delle analisi. Queste analisi sono rimaste secretate o quantomeno non pubblicate. Da queste analisi sembrerebbero emergere risultati molto preoccupanti. Il sindaco pochi giorni dopo annuncia un mare pulito e splendido. Noi ci auguriamo che sia così come dice il sindaco, ma non riusciamo a comparare i risultati che abbiamo pubblicati, anzi non pubblicati dall'ACA con le dichiarazioni del sindaco che non sono supportate da alcun documento. Per questo chiediamo all'amministrazione, all'ACA, all'ARTA, al sindaco qual è lo stato reale di salute del nostro mare. Quali sono i dati in vostro possesso? I dati sono allarmanti perché i risultati del 25 maggio, prelievi fatti proprio in questo posto davanti alla pompa B0, alle 7.30 del mattino parlano in una piccola provetta di 100.000 escherichia coli in microgrammi per metro cubo. Quindi è un dato allarmante, 20 volte oltre il limite previsto dalla legge. Sono stati concessi altri 15 giorni di tempo per presentare le domande relative al bando Farecentro che ha il fine di ricollocare attività produttive all'interno del centro storico dell'Aquila. Finora sono 30 le istanze già inoltrate. Sentiamo Daniela Rosone. 30 le istanze depositate per ora per il bando Farecentro, ma verrà prorogata di 15 giorni, fino a metà luglio, la scadenza per la presentazione delle istanze. Il bando Farecentro è stato emanato, come è noto dalla Regione Abruzzo, per la ricollocazione di attività commerciali nei centri storici terremotati del 2009. A una settimana dalla scadenza iniziale del 26 giugno, il Direttore Generale della Regione Abruzzo, Vincenzo Rivera, conferma che ci sarà questa proroga. Si tratta di 20 milioni di euro programmati tra il 2016 e il 2018 per sostenere chi ha riaperto o intende farlo nei centri storici dell'Aquila, delle sue frazioni e dei comuni del cratere, oltre che in località speciali che sono state inserite come Fonte Cerreto o San Pietro della Ienca, con contributi che vanno da 20 a 200 mila euro. Le istanze effettivamente depositate ad oggi sono 30, sono ancora in busta chiosa, verranno aperte dopo la scadenza prorogata. Tra gli obiettivi generali del bando c'è il sostegno al rientro delle attività economiche dei centri storici e nelle altre aree ammissibili, il trasferimento di attività già esistenti o l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, il processo di riqualificazione urbana in via della Croce Rossa, nonché favorire il rientro nei centri storici degli ordini professionali, delle associazioni di categorie maggiormente rappresentative e delle organizzazioni sindacali. Il bando prevede 12 milioni di euro per il bienio in corso, 5 milioni per il 2017, 7 milioni per il 2018, ma in conferenza stampa all'inizio si parlò di altri 7,5 milioni per il 2016, portando quindi il totale a circa 20. Il BIM di Teramo ha indetto un tavolo tecnico con esperti del settore per approfondire il fenomeno del cyberbullismo. Una rete locale per prevenire e affrontare il fenomeno del cyberbullismo e i rischi della grande rete. Una rete che spesso si trasforma in una vera e propria trappola per molti giovani e giovanissimi. Con questo obiettivo nella sala assemblee del consorzio BIM di Teramo si è svolto un tavolo tecnico alla presenza di esperti del settore, sindaci, delegati dei servizi sociali e dirigenti scolastici del comprensorio. Il problema della privacy è proprio uno dei grossi problemi quando si trova il minore a utilizzare questi mezzi. Più che altro perché spesso e volentieri non si rende conto dei rischi e delle conseguenze che si hanno diffondendo delle informazioni personali. Le condizioni psicologiche di una vittima vanno veramente affrontate a partire a monte. Quindi è uno studio che parte sicuramente dalla famiglia, dalla scuola, fino ad arrivare alle istituzioni sociali. Ecco perché oggi sicuramente è un punto di partenza per dare un'attenzione importante ad un fenomeno che è il cyberbullismo, diverso dal bullismo classico che conosciamo. Quindi la vittima è una vittima sola fondamentalmente, si ritrova sola rispetto ad una vittima di bullismo classico, quindi fisico, perché deve combattere contro l'anonimato, quindi contro la rete, contro l'infinito. Per cui c'è bisogno di una condizione sociale molto forte che avvicini le istituzioni, le famiglie, la scuola per, al di là di proteggere e quindi evitare che uno su dieci vittima di cyberbullismo arrivi al suicidio. Cioè questa è una condizione tragica. Prima di questo bisogna prevenire. Nell'ambito del cyberbullismo il consorzio BIM di Teramo, oltre a mettere a disposizione ampie conoscenze e competenze su questi temi nel territorio, supporta l'iniziativa promossa dalla The Circle in collaborazione con l'associazione Project San Gabriele. Si tratta di un tema di grandissima attualità. Il nostro supporto come consorzio BIM per creare per l'appunto una rete che sia uno strumento operativo assolutamente efficace che mette insieme magari le istituzioni, quindi anche i comuni, i dirigenti scolastici, ma soprattutto le famiglie che sono, come dire, gli attori protagonisti di questo rapporto con i figli per evitare queste problematiche. Questo è il servizio di Tania Bonnici Castelli. Restiamo sempre a Teramo, dove l'Istituto Zoo Profilattico ha portato in piazza la ricerca durante quattro serate allestite nella centrale Piazzetta del Sole, cuore del centro storico della città. I teramani si sono dati appuntamento in Piazzetta del Sole per quattro sere consecutive grazie all'Istituto Zoo Profilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise che ha pensato bene di organizzare quattro incontri di divulgazione scientifica nel centro storico di Teramo, Piazza del Sole appunto, un luogo un po' trascurato e ancora troppo poco conosciuto. Uno spazio che l'IZS invece ha intenzione di riqualificare con il supporto dell'amministrazione comunale di Teramo e questa riqualificazione passa attraverso la cultura. Ecco perché è stato allestito proprio qui il Museo del Gatto che in queste quattro serate è rimasto aperto al pubblico fino a mezzanotte. I quattro appuntamenti in Piazzetta sono stati un'occasione di dialogo con i cittadini per presentare in maniera divulgativa alcune delle attività che l'Istituto svolge per il benessere, la sanità animale, la sicurezza alimentare e ambientale. Sono stati anche proiettati i cortometraggi vincitori delle sette edizioni del Premio Speciale Caporale per un filmato che racconti la relazione uomo-animale-natura indetto dall'IZS di Teramo nell'ambito del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo, curato dall'Associazione Teramo Nostra. Era bello portare intanto all'esterno delle attività di ricerca e anche di studio che l'esternudo zooprofilattico fa da anni nei vari settori della sicurezza alimentare ma anche della sanità animale, del benessere animale perché ci sono dei temi che sicuramente possono essere trattati con la semplicità che può interessare alla generalità delle persone. Poi ci sono temi un po' più particolari che sono di nicchie che riguardano un particolare settore scientifico ed allora era carino portare all'esterno l'istituto perché vive nella città di Teramo da sempre ma sembra una cosa estranea alla città e portarla in questa piazzetta che secondo me è una parte storica della città molto bella e che va riqualificata e riqualificarla su un tema culturale insieme al Premio di Venanzo sicuramente è un buon modo per ripartire. Un successo dunque questa formula tra divulgazione scientifica, cultura e cinema curata dalle ZS di Teramo che ha avuto l'idea di far uscire fuori dai laboratori la ricerca e portarla in piazza affinché tutti ne potessero godere. Più attenzione per il centro della città e in particolare per Piazza Darmi all'Aquila è quello che chiedono i commercianti al prossimo sindaco del capologo di regione. Vediamo. Siamo nel mercato di Piazza Darmi il punto di incontro di unione dei commercianti aquilani che prima del terremoto vendevano in Piazza Duomo nel cuore della città. Lo facciamo periodicamente e siamo venuti a chiedere come vanno le cose. Da più voci si leva una richiesta anche per quella che sarà l'amministrazione che verrà di realizzare finalmente all'Aquila un mercato coperto. I commercianti infatti, soprattutto l'inverno, si sentono penalizzati. Quello del mercato coperto continua ad essere un desiderio per i commercianti di Piazza Darmi. Se le cose in estate vanno meglio e qualche affare in più lo si fa in inverno le difficoltà per una città come l'Aquila sono notevoli e così per gli ambulanti che spesso non possono montare neanche le loro bancarelle a causa delle condizioni atmosferiche. Il mercato di Piazza Darmi diciamo che attualmente con la chiusura delle scuole va un po' a rilento. C'è da dire che noi siamo molto penalizzati quando c'è brutto tempo quindi avremo anche bisogno proprio un bisogno repellente di una copertura del mercato altrimenti le cose non è che vanno tanto bene. Al futuro sindaco della città dell'Aquila una serie di richieste magari più attenzione per la categoria. Siamo a pochi giorni dal ballottaggio che decreterà il nuovo primo cittadino di questa città saranno anni impegnativi l'Aquila è impegnata alla ricostruzione voi avevate diversi progetti il mercato coperto e quant'altro quali impegni chiederete come categoria al nuovo sindaco? Allora al nuovo sindaco gli chiediamo di mettere le navette al mercato che sono molto importanti perché i nostri clienti cercano le navette che se ne vedono ben poche in tutte le parti ma nel mercato soprattutto perché c'è persone anziane che vogliono venire al mercato e sono molto fiduciosi del nuovo sindaco che sarà o di destra o di sinistra che verrà a governare questa città speriamo la persona più giusta. Galline in centro storico a Lanciano i residenti sono infuriati con un piccolissimo allevamento tenuto da una signora all'interno della sua abitazione vediamo Quelle che vedete sono comuni galline quello che non sapete è che sono allevate in pieno centro storico a Lanciano a mostrarcele dalla finestra di casa sua è la signora Nunzia una dei residenti del Vico 44 Garibaldi nel quartiere Santa Giovina con l'arrivo della bella stagione però l'odore degli escrementi insieme a quelli prodotti dagli ogni presenti piccioni e dai tombini intasati hanno risolato l'aria del Vico irrespirabile con la conseguenza che diventa impossibile aprire finestre e balconi ma a preoccupare i residenti e anche l'instabilità di un edificio disabitato e abbandonato da decenni è pericolante il temporale di sabato scorso ha provocato il distacco della grondaia sul posto sono giunti i Vigi del Fuoco che però si sono limitati a posizionare due transenne per segnalare la zona di pericolo nel corso della mattinata intanto due tecnici del settore politica ambientali hanno effettuato un sopralluogo scattando fotografie anche alle galline ora per i residenti non resta che sperare che l'amministrazione comunale faccia finalmente del suo meglio per trovare una soluzione magari prima che d'estate scoppi e la puzza diventi davvero insopportabile anche quest'anno in occasione del Corpus Domini a Castilenti è stata organizzata la cosiddetta infiorata vediamo di cosa si tratta nel servizio dei colleghi di Vestina News l'infiorata è una bellissima manifestazione che si svolge a Castilenti ogni anno in occasione del Corpus Domini l'infiorata che vedete su questa via viene fatta da infioratori non professionisti ma che sono diciamo delle persone normali di Castilenti mamme di famiglia, ragazzi che seguono il catechismo e giovani che frequentano la parrocchia e che ogni anno scelgono i quadri da fare e con notevole lavoro che comincia anche due settimane prime cercano di infiorare al meglio questa via quest'anno è stato dedicato al 18 gennaio 2017 alla immane tragedia che ha colpito una delle zone vicine a noi, Rigopiano e a tutti i ragazzi che sono morti in quella tragedia per questa festa dell'infiorata nel giorno del Corpus Domini che la Chiesa celebra dal XIII secolo quando all'interno della Chiesa c'era questa riflessione su se in quel pane, in quel vino c'era veramente la presenza reale di Gesù allora questa festa è stata istituita in quel tempo nella Chiesa per ridire che in quel pane in quel vino che noi vediamo dopo la consagrazione lì c'è veramente il corpo e il sangue di Cristo come poi a seguire i miracoli eucaristici a partire dal primo nella storia che è quello di Lanciano poi ha fatto realmente vedere Ed ora apriamo la pagina sportiva iniziamo parlando del Pescara Mamadou Koulibaly potrebbe diventare un nuovo calciatore dell'Inter dopo quello di ieri un nuovo incontro nelle ultime ore potrebbe portare alla ratifica dell'accordo dal club nero-azzurro potrebbe arrivare a Pescara Marco Carraro recente vincitore del titolo Primavera sentiamo Andrea Costantini e all'improvviso è sbuccata l'Inter Mamadou Koulibaly il gioiellino senegalese del Pescara appetito da mezza Serie A potrebbe finire proprio al club nero-azzurro dopo l'incontro avuto ieri a Milano dal presidente Sebastiani con la dirigenza interista bruciata dunque la folta concorrenza con Juventus in primis ma anche Milan, Atalanta e Sampdoria che nelle scorse settimane avevano chiesto informazioni su Koulibaly dandosi appuntamento a futuri incontri invece l'attacco sferrato ieri dall'Inter ha lasciato il segno e nelle prossime ore è previsto un nuovo incontro per la chiusura si rinforza dunque l'asse Pescara-Inter lo stesso che lo scorso anno aveva portato allo sviluppo della trattativa per la cessione di Caprari e l'arrivo di Biraghi a titolo definitivo e di Manai in prestito Koulibaly finirebbe in nero-azzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto per l'Inter tra le contropartite dell'operazione l'approdo a Pescara di Marco Carraro centrocampista classe 98 fresco di titolo con la primavera di Stefano Vecchi sempre con l'Inter il delfino aveva già definito in linea di massima l'approdo in rival adriatico della mezzala Andrea Palazzi lo scorso anno sempre in B alla Provercelli e l'asse potrebbe portare altri risultati perché se è molto difficile arrivare al centrale Zinio Vanoisden non è affatto tramontata l'ipotesi del prestito del terzino Federico Baglietti ore decisive per il centravanti Simone Andrea Ganz l'uomo scelto da Zdenek Zeman per essere il riferimento centrale del suo tridente sul giocatore di proprietà della Juventus l'Ellas Verona ha un diritto di opzione e da tempo fino a domani per poterla esercitare da giovedì insomma il quadro sarà più chiaro e se il giocatore come sembra dovesse restare di proprietà della Juventus il Pescara lo potrà prelevare a meno che il presidente del Genoa Preziosi non affondi sul cartellino dell'ex Comasco come nuova ripicca per il mancato arrivo di Lapadula lo scorso anno sul fronte uscite resta forte nelle ultime ore il pressing del Benevento sull'Edian Memushai e l'interesse del Cagliari verso Cristiano Biraghi ma il club del presidente Giulini se la deve vedere con Udinese e Sam Doria intanto sempre oggi il Pescara ha annunciato il prolungamento dell'accordo con lo sponsor tecnico RA per altri 4 anni e dunque fino al 2021 in casa Teramo il problema principale sarà la gestione dei tanti giocatori sotto contratto ben 16 ma il patron bianco-rosso Luciano Campitelli è chiaro chi non vorrà rescindere andrà fuori rosa sentiamo l'intervista di Jacopo Forcella Presidente Campitelli l'ha definito questo l'anno zero e se vogliamo per il Teramo è un po' una novità ripartire con un obiettivo da costruire strada facendo con asta e repetta se non ripartivamo da questo obiettivo si sono visti i risultati negli ultimi due anni quindi ci conveniva ripartire da questo obiettivo ricostruire cercare di ritornare a essere umili a essere vogliosi a essere grintosi avere la voglia di vincere le partite e non pensare solo al contratto perché qui negli ultimi due anni si è pensato al contratto e non a un progetto oggi pensiamo al progetto ha parlato in conferenza stampa ha detto probabilmente andranno via tutti quelli che c'erano l'anno scorso o comunque la stragrande maggioranza ce la farà il Teramo a fare un'operazione del genere è molto complicato ma io penso che chi non andrà via andrà fuori rosa e quindi vuol dire che starà un anno un anno a spasso verranno pagati ma sicuramente chi non andrà via io in prima squadra non li porterò sicuramente perché qui se non si pensa a essere ancora padroni del nostro Teramo a questo punto noi ci possiamo ritirare in convento quindi ripeto insieme all'allenatore sceglieranno i calciatori che loro vorranno per creare una squadra come ha detto lui di persone giuste con la giusta esperienza e tanti giovani questo sarà l'obiettivo ma per tutte quelle persone che noi riterremo che non c'è più posto in questa società sicuramente in un modo o in un altro entranno via ha parlato di un piano triennale bene Luciano Campitelli dove si aspetta che sarà tra tre anni il Teramo facciamo questo primo anno e poi vediamo quanti elementi ci possono volere per ricreare una squadra dove in tutti i settori sia pronta e poi da lì si vedrà noi quest'anno non dobbiamo sbagliare quindi siccome non dobbiamo sbagliare cercheremo di di fare il massimo e ricreare ripeto una banda di giovani che vogliono correre perché tanto qua si vince col correre non si vince con le chiacchiere non si vincono solo con i campioni se ne dobbiamo mettere uno, due o tre noi li metteremo ma poi ci vogliono gente che corre e basta e allora provo ad interpretare io il suo discorso tra tre anni Campitelli si immagina di realizzare di nuovo quel sogno che ha tenuto per due anni chiuso in un cassetto io non mi immagino niente immagino che quest'anno dobbiamo salvarci in fretta perché quello che ho passato quest'anno non lo auguro a nessuno dopo aver lasciato il Francavilla l'imprenditore Fabio De Vincentis è pronto a intraprendere una nuova sfida alla guida del Lanciano 1920 ieri il neopresidente è stato presentato alla città nella casa di conversazione davanti a centinaia di sportivi rossoneri la squadra dovrebbe partecipare al campionato di prima categoria ma De Vincentis e i tifosi confidano nel ripescaggio in promozione Lanciano affamata di calcio e bagno di folla traboccante di entusiasmo e finalmente il rosso nero in bella mostra in piazza plebiscito simbolo di rinascita e voglia di riprendere un cammino glorioso al via infatti il nuovo corso del Lanciano Calcio Lanciano 1920 per la precisione con tanta curiosità la voglia di tornare grandi dopo un anno in pratica di riflessione con la rabbia dei tifosi per l'incredibile epilogo della Virtus non ancora sbollentata nell'ex casa di conversazione ecco il neopresidente rossonero l'imprenditore Fabio De Vincentis che ha incontrato per la prima volta pubblicamente ufficialmente il popolo rossonero spiegando i motivi della decisione di lasciare Franca Villa obiettivi e speranze adesso alla guida del club lancianese insieme a De Vincentis i soci tenaci dell'associazione Lanciano Rossonera che hanno preso per mano il marcianese per poi fondare il Lanciano 1920 progettare e poi il sindaco pupillo bello l'applauso scrosciante alla signora Angelucci simbolo di un passato glorioso e di stile e con il presidente sono arrivate anche Antonio Paciarella e Francesco Di Gennaro parte dello staff tecnico che collaborerà gomito a gomito con De Vincentis l'obiettivo è solo uno far tornare grande il Lanciano Presidente De Vincentis innanzitutto quanta emozione? l'emozione ci sta ma è giusto che ci deve anche stare perché in un percorso del genere non farsi prendere un po' dall'emozione significa essere veramente uno abbastanza cattivo con se stesso in certi casi lo sono pure però è giusto che per una piazza come il Lanciano e la mia neopresidenza le giuste emozioni ci devono essere quindi me lo anche gusto perché ha abbracciato il rosso nero? ma perché una cosa i rosso neri sono colori importantissimi e su una scala di colori sono chi effettivamente va a primeggiare e al di là dei colori è perché Lanciano e Lanciano Lanciano la sua storia Lanciano il suo perché e Lanciano è perché si può fare calcio in modo diciamo strutturato e nel tempo la prima categoria ma la speranza è anche di ripartire buh bella promozione guarda diciamo oggi non possiamo dire nulla è toppo embrionale questo tipo di risposta da parte mia perché il percorso per vedere il Lanciano in quale categoria gioca nell'anno 21 è ancora lungo da fare quindi dovremo lavorare per cercare almeno almeno di poter dare la categoria superiore se no ripartiamo dalla prima categoria quello che ci compete chiudiamo con una notizia di Atletica Salvatore Angelozzi dell'Atletica Vomano Gran Sasso ha conquistato il titolo italiano di salto triplo under 18 stabilendo in gara il nuovo record regionale di categoria durante i campionati nazionali individuali disputatisi a Rieti 14 metri e 95 misura minima per la partecipazione ai mondiali under 18 e per i campionati europei under 20 in programma nel mese di agosto in Italia Grosseto il giovane allievo prodotto del vivaio giovanile dell'Atletica Vomano Gran Sasso sotto la supervisione del professor Claudio Mazzaufo e Marco Di Marco nelle qualificazioni aveva saltato 13 metri e 95 ma il capolavoro l'ha compiuto in finale atterrando come detto a 14 metri e 95 è tutto anche per la seconda edizione del TG6 il prossimo appuntamento con la nostra informazione è alle ore 23 grazie per essere stati con noi buona serata grazie per la visione